25.000 biglietti per due persone per un totale complessivo di 50.000 ingressi gratuiti. È un grazie molto speciale quello che l'amministrazione comunale di Piacenza rivolge a tutti gli operatori sanitari dell'Emilia Romagna e della Lombardia che a partire da sabato 20 giugno e per tutto il 2020 potranno, fino a esaurimento ingressi, accedere gratuitamente a tutte le sezioni dei musei civici di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale di Via Scalabrini. Piacenza, così duramente colpita e martoriata dal coronavirus non si è scordata di chi si è speso in prima linea senza risparmiarsi per prendersi cura di noi ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri Gli ingressi saranno donati anche agli operatori delle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai militari anch'essi in prima linea fin da subito nonché ai volontari di Piacenza e provincia capaci di spendersi senza riserve nell'aiutare la nostra città a risollevarsi un'iniziativa densa di significato che oltre a ringraziare gli angeli delle corsie consentirà alla nostra città di svelare ancora una volta i suoi tesori Grazie a tutti i nostri spettatori